ecco la gamma family di bebe confort una sola base isofix e due seggiolini auto per accompagnare e proteggere il tuo bimbo in viaggio fino a quattro anni vedrai bastano pochi gesti e gli ancoraggi isofix per fissare la base family fix nella tua auto pratici segnali luminosi e sonori ti confermano che l'installazione della base è avvenuta correttamente e che l'ovetto pebble è ben agganciato pebble ti offre un innovativo sistema di cinture che restano aperte da sole per facilitare l'installazione del bambino il comfort è assicurato dal riduttore per i primi mesi dal poggiatesta regolabile in altezza simultaneamente alle cinture e dalla capottina parasole grazie al dispositivo di reclinazione integrato nella base family fix puoi allontanare pebble dallo schienale del sedile per offrire più spazio alle gambe del bimbo che cresce e permettergli di viaggiare più a lungo in senso contrario di marcia questa è la posizione più sicura per lui terminato l'utilizzo pebble la base family fix può essere usata in combinazioni con il seggiolino pearl per offrire al bambino la sicurezza del sistema isofix fino a 4 anni anche pearl è dotato di cinture che restano aperte da sole e che si regolano in altezza insieme al poggiatesta ed è reclinabile per offrire massimo comfort al tuo bambino scopri tutte le caratteristiche di family fix pebble e pearl sul sito www.bebeconfort.com isofix fino a 4 anni